Sulle fonti tv qualche consiglio di investimento nel periodo post covid. Allora ci sarebbero buone notizie dalla Cina per gli investitori in bond. In un mondo alla perenne caccia di rendimento obbligazionario può essere accolto con interesse la maggiore remunerazione offerta proprio dai bond cinesi. Questo è l'argomento della pillola informativa. Il recente exploit infatti dell'azionario cinese è stato accompagnato da un rialzo dei rendimenti sulle scadenze decennali. Questo è un buon segnale che gli investitori hanno recepito perché evidentemente pensano che l'economia cinese sia sulla buona strada della ripresa economica proprio dopo il coronavirus. E allora qualche numero ancora. Lo spread tra i titoli di Stato cinese e americani ha superato abbondantemente i 200 punti base toccando il massimo dal 2011. Il rendimento di un titolo di Stato cinese ha recuperato quota 3% e in un mondo che richiede cedole e reddito fisso questo non è un particolare sicuramente da trascurare perché dobbiamo considerare anche la recente debolezza della valuta di Pechino. Possiamo definirlo un po' un mix di reddito fisso e rischio valutario che potrebbe essere percorribile da chi vuole investire proprio sui bond cinesi. È così Andrea De Gaetano, ben trovato. Grazie, sì direi proprio di sì. C'è stato questo forte recupero in realtà dell'economia mondiale e in Cina è successo quello che ci si aspettava succedesse anche in Europa e invece è successo solo in Cina, cioè borse che sono salite e rendimenti anche dei bond che sono saliti. A marzo gli investitori si erano accaniti a comprare bond di alta qualità, quindi hanno comprato treasury, bond e anche i AAA cinesi con rendimenti che borse crollate erano scesi sui minimi con ovviamente i titoli di Stato saliti sui massimi. Adesso sta succedendo un po' il contrario, quindi gli investitori si sono rilassati, abbiamo visto tra l'altro che tutti i dati macroeconomici sono usciti molto migliori delle attese negli ultimi mesi, quindi sia in Europa sia negli Stati Uniti e anche in Cina dove il prodotto interno lordo è cresciuto del 3-2% nel secondo trimestre, quindi meglio delle attese e quello che è successo è stato appunto un ritorno, quasi un raddoppio dei rendimenti dei bond sia sulle scadenze lunghe, quindi il decennale, sia sulle scadenze brevi, quindi abbiamo visto anche il 2 anni, l'anno passare dall'1,30 al 2,30 di rendimento e il decennale cinese al 3%. Chiaramente ecco se c'è il rischio di cambio perché lo yuan ovviamente è la variabile e nel contesto di una guerra valutaria e una guerra economica tra Stati Uniti e Cina può far paura l'idea di andarsi a collocare su una valuta come lo yuan. Dall'altra parte questo rischio è compensato almeno in parte da un rendimento che è tre volte superiore sui bond cinesi rispetto ai bond americani con un rating massimo, quindi il tripla A. Appunto il decennale sfiora il 3% di rendimento, però anche le scadenze brevi, quindi si va tra il 2 e il 2,30 di rendimento, quindi per un investitore, soprattutto per un investitore europeo che per stare al sicuro sui bond tedeschi paga sulle scadenze brevi intorno allo 0,66% e meno 0,44 sul decennale, avere opportunità di investire tra il 2 e il 3% con uno stesso rating può essere siccome è molto interessante, quindi questo è un punto. Il secondo punto è il fatto che questa enorme opportunità che è arrivata all'Europa, quindi l'approvazione in tempi rapidi del recovery fund ha dato una spinta molto forte all'euro che è salito nei confronti sia del dollaro sia ovviamente anche dello yuan e abbiamo un cambio euro yuan che è salito oltre 8 e un dollaro yuan che è in area 7, per cui secondo me si sta creando una particolare opportunità, ovviamente con il rischio cambio che è la cosa principale, il rischio principale dell'operazione, però dove abbiamo comunque un cuscinetto di sicurezza che è legato dal fatto che appunto lo yuan sale da 6 e mezzo, siamo arrivati a 8 quindi negli ultimi anni, quindi comunque l'euro è già salito molto e poi c'è comunque un rendimento positivo e anche secondo me è una forma di, se vogliamo, di assicurazione, nel senso che dopo questo enorme rally dei mercati azionari, se dovessero esserci delle nuove ricadute o dei contraccolpi nell'economia, gli investitori tornerebbero a comprare bond di qualità e quindi si ricomprerebbero bond decennali, ovviamente tra cui anche quello cinese. Quello che abbiamo visto proprio per citare un esempio concreto è stato che a marzo il bond decennale benchmark di riferimento era arrivato oltre 105 e in questo rally delle borse è da 105 tornato a 97, quindi c'è stato anche qui un callo dei prezzi e quindi una risalita dei rendimenti, quindi può essere una buona opportunità d'acquisto. Naturalmente visto che l'obiettivo di queste nostre pillole è sia formativo che informativo, non si può prescindere da quello che è uno dei punti cardine della finanza perché quando si danno consigli di investimento bisogna sempre tenere presente tutte le varie variabili e questo è il caso di dirlo, quindi al di là delle previsioni anche tutti i fattori macroeconomici che possono inserirsi poi nell'andamento dei mercati, effettivamente anche se c'è in questo momento, giusto per fare ancora questa specifica insieme ad Andrea De Gaetano, anche se in questo momento gli indicatori ci parlano di una predisposizione degli investitori fiduciosa nei confronti di quella che è la ripresa, insomma bisogna sempre tenere presente a quelli che sono i possibili, non tanto cigni neri, ma insomma cigni magari di qualche altro colore grigi che possono intersecarsi ancora una volta nelle notizie e quindi di conseguenza anche nell'andamento dei mercati. Sicuramente, diciamo che la cosa che ci sono due considerazioni, la prima è il fatto che effettivamente se un investitore desidera stare tra virgolette, dico tra virgolette perché ormai chi vuole stare tranquillo sui rendimenti tedeschi alla tranquillità di una perdita certa a scadenza, quindi per andare, non perdere, ma andare a cercare un rendimento positivo si è costretti a correre qualche rischio, quindi ovviamente ognuno dovrà valutare qual è il livello di rischio che è disposto a correre, però e quindi fare una ponderazione tra quello che è il rischio che si corre e l'eventuale beneficio. Questo per quanto riguarda appunto il tema Cina, se si ha un rating massimo, quindi non si ha il rischio di emittente, perché l'emittente è massimo rating, direi che la circostanza più forte, diciamo, come da valutare è quella del cambio e o eventualmente ecco che l'economia cinese tornasse a galoppare, però ecco per quanto riguarda un'economia appunto cinese, la cosa che secondo me può essere più verosimile è quella di vedere l'economia cinese che era considerata fino a qualche anno fa economia emergente e in realtà adesso è la seconda economia mondiale, per cui di emergente secondo me non è più corretto parlare di economia emergente, tant'è che è entrata a pieno ritmo anche nelle MSCI World, quindi sempre più presente nei portafogli degli investitori istituzionali e quindi di fatto tra economie comunque più grosse si deve andare a vedere dove investire. La Cina, seconda economia mondiale, ha dei rendimenti che se paragonati a quelli statunitensi o quelli tedeschi sono interessanti e se dovesse succedere quello che di fatto è successo negli ultimi vent'anni, negli ultimi trent'anni anche da noi, i rendimenti di fatto sono sempre scesi, quindi se andiamo a vedere negli ultimi anni in Germania o anche negli Stati Uniti abbiamo visto un costante calo dei rendimenti a cui corrisponde ovviamente una salita dei prezzi dei bond e quindi chi avesse investito in bond avrebbe guadagnato molto e secondo me questo potrebbe verificarsi anche in Cina, cioè un'economia che appunto da emergente diventa sviluppata, è verosimile che dopo questo forte rimbalzo che ha colto scomè molti di sorpresa, quindi borse che sono salite oltre a ogni previsione e anche dati economici che hanno sorpreso, potrebbe esserci un nuovo momento di assestamento, quindi un rallentamento. In fase di rallentamento i bond di qualità vanno bene. Per concludere potremmo dire quindi la Cina può dare delle ottime opportunità, delle ottime possibilità, la Cina non è più quella di una volta, lo ha detto anche Andrea De Gaetano, quindi di conseguenza anche l'approccio nei confronti di tutto quello che è investimento cinese è cambiato sicuramente, attenzione a quello che potrebbe succedere, quindi i dati in finanza, altro punto essenziale quando si parla di formazione in finanza, vanno sempre consolidati, cercano un consolidamento. Certamente sì, poi ovviamente oltre a questo il news flow va continuamente seguito perché appunto quello che abbiamo visto anche nelle ultime ore sono queste tensioni tra Stati Uniti e Cina e quindi questo secondo me può essere un po' il deterrente da chi esita nell'approcciare questo tipo di mercato, però ecco abbiamo visto nello stesso tempo che da anni notizie emotivamente sconvolgenti non hanno impedito ai mercati di andare molto bene. Grazie Andrea De Gaetano per i consigli, queste sono le pillole formative e informative di Le Fonti TV, grazie per averci seguiti.